Festa di San Benedetto, siamo quasi pronti per partire, ecco le banche, pronte per la processione, noi ci siamo, c'è Marcello, c'è Salvatore, non può mancare mai Salvatore, Luigi, ci sei? Eccolo lì a prua, Luigi è pronto, e qua sono le barche, qua sono le barche e noi siamo pronti con la Capiteria di Porto che partecipa alla processione di San Benedetto, Capiteria di Porto di Cetraro, siamo quasi pronti, ci siamo, eccolo lì che si sta preparando. E' partita l'imbarcazione, in fondo San Benedetto, che sta arrivando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. siamo alle grotte di inizio ecco che la precessione si gira si ritorna verso cetraro si gira Grazie. 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 Alla fine di questa bellissima precessione a mare, ecco che siamo arrivati alla colonia di Cetraro e adesso verrà sbarcato San Benedetto. Oggi è una giornata stupenda, siamo al 10 di luglio, questo è Cetraro, Marina e in alto Cetraro Paese. Grazie. Adesso il peschereccio principale è stato sbaccarizzato. Grazie.